Bene amici, prima del pranzo è pronto, dedichiamoci pochi minuti a parlare del tennis, il torneo US Open USA United States of America, cevendo sedicesimi di finale il nostro caro Matteo Berrettini, numero ATP 8, supera per 3, 7 a 0, Rude, numero ATP 37 in 2 minuti e 5 secondi, con i seguenti punteggi 6-4, 6-4, 6-2, primo set 37 minuti, secondo 42, terzo 46, quindi per farla veloce veloce il caro Berrettini domani affronterà Rublev, speriamo bene che possa rientrare nei quarti di finale, però è ovvio, deve superare prima l'ostacolo Rublev quindi ora vi rassicurate arriverà un po' di pausa, un po', godiamoci, speriamo che non sia una gara come di consueto assenza senza unico di Formula 1, Gran Premio di Monza che ricordo in diretta, in chiaro anche in Free TV su digitale terrestre, su TV8, Gran Premio di Monza 2020 dove allora Leclarc mi pare 13esimo, Vettel partirà credo 17esimo quindi anche se purtroppo è così, difiamo Ferrari, diamo un occhio ovviamente anche a Sainz, prossimo Ferrarista nella stagione prossima e chiudiamo ribadendo, Matteo Berrettini supera nei sedicesimi di finale Grazie a voi tutti per l'attenzione, io vi auguro un buon pranzo, ci sentiamo dopo per il commento del Gran Premio di Monza spero di fare un commento sicuramente abbastanza genuino come cerco di farlo sempre anche se per un italiano che vede certe figure magre della Ferrari credetemi non è facile ma ormai ci siamo fatti il caldo diciamo così quindi ci vediamo più tardi tra un paio d'orette presumo intorno alle 17 più o meno buona a voi tutti, buon pranzo e alla prossima, hasta la vista amigos, ciao